ciao ragazzi finalmente sono arrivati i miei nuovi stivaletti racing formula rb 8.1 ignifugi della sparco infatti ora andremo a scoprirli assieme ma prima di tutto vi dirò il codice prodotto che è 001251 e il prezzo è di 245 euro più iva ovviamente nella nostra scatola troveremo il manuale ed una sacca dove riporre le nostre scarpe ed infine il nostro prodotto quindi le scarpe personalizzate ovviamente sono completamente personalizzabili infatti potremo scegliere il colore dei vari dettagli aggiungere la bandiera del proprio stato nome cognome e anche il gruppo sanguigno e inoltre abbiamo gli strap regolabili sulla caviglia e i loghi sono stampati direttamente sulla pelle inoltre abbiamo una pelle traforata per una migliore traspirazione ed un sistema di allacciatura rapido e ultraleggero abbiamo anche una nuova pelle con finitura opaca e mano morbida per un look più tecnico ed un feeling più avvolgente inoltre il tessuto posteriore elasticizzato poi abbiamo una fodera in tessuto cotone modo acrilico accoppiata con espanso più ultratraspirante la soletta interna ha una shock absorber e abbiamo degli inserti in pelle di rinforzo laterale per diminuire gli impatti invece per quanto riguarda la suola è in pura gomma ultra sottile antistatica e con texture per avere il miglior clip sul pedale comunque queste sono le nostre scarte stivaletti rb 8.1 della sparco li potete avere standard o personalizzati comunque sono molto leggeri molto morbidi anche molto elastici e penso che saranno molto comode comunque sembrano un buon prodotto